Posto dicendo che ovviamente non verrebbe, però vorrei correggere la partenza. Il TFR non è un raddoppio degli 80 euro. Il TFR è salario differito contrattato, è salario dei lavoratori. Siccome leggo ogni giorno che c'è un aumento dei salari, per favore, almeno l'informazione sia corretta. Quello è salario dei lavoratori, che può essere erogato diversamente. E noi ribadiamo, come gli abbiamo detto di sopra, che se si vuole mettere il lavoratore nella condizione di decidere di prenderlo mensilmente, annualmente, in anticipo, bisogna che ci sia una norma che non gli fa pagare più tasse e bisogna che ci sia la salvaguardia dei sistemi di previdenza complementare. Ma vorrei davvero, per correttezza nei confronti di coloro che informate, che si smettesse di dire che è un bonus. Perché quello è il salario dei lavoratori.